salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come avrete visto o meglio come tanti di voi avranno già visto hapsan ha presentato ufficialmente l'apsan zino 2 la versione che ha già stata presentata alla fiera di hong kong solo a livello di immagini ma non c'era il prodotto definitivo adesso hapsan ovviamente l'avendolo presentato nel suo sito è già preordinabile c'è già anche il prezzo 560 euro la versione base un drone veramente eccezionale dal punto di vista delle caratteristiche tecniche perché veramente tanta tanta roba soprattutto perché poi arriverà a costare secondo mentone 400 euro con i vari coupon sconto che si avranno negli store cinesi un drone veramente completo addirittura con un 4k a santa fps che non ha neanche il mavic pro 2 c'era solo l'auto e livo nei droni richiudibili un bit rate da 100 megabit per secondo contro i 56 megabit che aveva l'apsan zino 1 quindi una qualità video nettamente superiore 33 minuti di autonomia contro i 23 dell'apsan zino 1 optical flow quindi ha anche i sensori sotto che lo tengono stabilizzato quindi non solo gps barometro poi cosa ha l'aggiornamento che questa è una cosa importantissima l'aggiornamento via app cioè tramite come fanno tutti i droni tramite l'applicazione si verrà aggiornato non con tutto il sistema macchinoso che aveva app che aveva scatenato l'ira di tutti i suoi acquirenti c'è veramente un drone spettacolare ma purtroppo pesa 900 grammi e questo cosa vuol dire che rientra nella categoria peggiore dal punto di vista del nuovo regolamento in ecassi perché oggi è il 12 dicembre tra tre giorni entrerà in vigore il nuovo regolamento in ec e fino a marzo avremo tempo per metterci in regola quindi dal 15 di dicembre dovremmo avere assicurazione fare la registrazione del drone e fare il corsi e test online e con questi droni che pesano più di 500 grammi cioè l'apsan zino il mavic l'autelivo il film x8 ci sarà il corso e il test online doppio quello più impegnativo quindi la mia domanda è chi è ancora disposto a spendere anche 400 euro per avere un drone low cost quindi chi acquista un drone low cost non è il super appassionato che acquista il mavic pro 2 acquista l'autelivo che quindi spende 1000 euro di drone e probabilmente è talmente appassionato talmente gli piace l'editing video talmente gli piace diciamo il mondo dei droni cinematografici che a quel punto farà i corsi farà la registrazione farà tutto quello che deve fare o meglio la maggior parte lo faranno mentre chi era disposto prima a spendere 400 euro per un film x8 per quello 200 euro per l'apsan zino 1 300 euro per l'apsan zino pro o addirittura appunto l'apsan zino 2 che costerà intorno ai 400 euro probabilmente ma chi è disposto a spendere questi soldi quindi un utente probabilmente che utilizza il drone ogni tanto la domenica quando va a fare qualche gita che acquista un drone che ha caratteristiche importanti che fa dei bei video ma non deve fare un investimento economico esagerato e quindi lo può utilizzare fattuariamente quando gli va ma dovrà comunque fare assicurazione registrazione soprattutto il super corso online cioè quello che vale doppio perché è un drone che pesa più di 500 grammi cioè praticamente non il corso il test online che si farà per i droni dai 250 ai 500 grammi cioè tipo paro tanafi o mavic air che sono sotto i 500 grammi quindi avranno un corso se vogliamo più semplice mentre i droni ovviamente sopra i 500 grammi tipo questo tipo il film x8 tipo l'autelivo tipo il mavic pro 2 il mavic pro normale questi droni avranno un corso è un test molto più impegnativo cioè un doppio corso un doppio test perché rientrano appunto in questa fascia di peso che supera i 500 grammi quindi in europa secondo me questi droni avranno veramente una vita difficile nel senso che secondo me a livello di vendite in europa avranno un crollo esagerato infatti non ci si riesce neanche più entusiasmare per questi droni perché cosa ci si entusiasma fare tanto diventano quasi inacquistabili perché uno dice cari ok mi compro il drone per volare ogni tanto la domenica spendo 400 euro quindi vabbè non uno sproposito come può costare un mavic però devo fare comunque un sacco di cavole burocratiche quindi o si rientra in quella fascia di persone che decideranno di volare a livello illegale quindi lo si acquista e si vola come si è volato fino adesso e fine ma se si vuole essere in regola secondo me questi droni veramente avranno vita difficile dal punto di vista delle vendite in europa perché veramente a 400 euro probabilmente l'utente medio che acquista il drone giusto per divertirsi e fare un po di video acquisterà questo e quindi addio menate burocratiche addio paturnie addio tutto vola registra da dio supermarchio dji e fine tutti questi droni che secondo me fino a un anno fa ci avrebbero fatto saltare sulla stedia dall entusiasmo adesso e ci si entusiasmo a fare se lo compro lo devo registrare lo devo fare assicurazione e corso online e testo cioè o se uno che già ha già dei droni quindi deve già fare il corso il test per altro perché c'è già un mavi che vuole comprare anche questo ok ho già fatto il corso già fatto tutto lo devo solo registrare in più a quello che ho già ok ma che uno voglia iniziare ad entrare nel mondo dei droni per fare dei video la domenica secondo me questo è un drone veramente questo come il film x8 ma come l'apsanzino 1 hanno praticamente finito la loro era dal punto di vista delle vendite di quantità il mio parere poi ditemi voi cosa ne pensate se voi sarete disposti a investire 400 euro per poi fare tutto quello che va fatto o meno se vi lancerete piuttosto in un drone tipo questo quindi secondo me veramente sta diventando proprio triste il mondo dei droni perché era così bello fino a un anno fa entusiasmarsi per l'arrivo di un nuovo drone soprattutto droni con caratteristiche così che la cara si andava a guardare cavolo però fa questo fa questo ma questo poi dici si fa questo ma questo ma questo tiro fuori 400 euro e poi e poi dove registrarlo devo fare l'assicurazione devo fare il doppio corso online perché almeno fosse pesato meno di 500 grammi almeno era il corso il testo quello semplice invece qua il corso quello per i droni sopra 500 grammi sarà molto più impegnativo quindi boh fatemi sapere voi quindi è solo un video per dirvi come sarebbe stato bello l'arrivo di questo absano invece come questi nuovi regolamenti hanno reso triste e inutile anche l'arrivo di questi droni in cui ci hanno tolto veramente anche la gioia di avere delle news delle cose delle novità dal punto di vista dei droni che prima aveva ragazzi ci entusiasmavano tantissimo se pensate come ci aveva entusiasmato questo quindi però qua eravamo ancora nell'era dove si sapeva che sarebbe arrivato il nuovo regolamento però era ancora tutto come prima quindi non gli davamo peso ma adesso ormai è arrivato tra tre giorni siamo già nella cacca quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi droni low cost che pesano più di 500 grammi secondo voi che fine faranno rispetto al punto di vista delle vendite se secondo voi venderanno lo stesso sto parlando in europa non nelle nazioni in cui non ci sono queste problematiche se secondo voi venderanno lo stesso qua in europa se voi li acquisterete lo stesso se ne fregherete di tutto quello che sarà o se invece vi lancerete su droni tipo questo anzi su questo che è l'unico per adesso che non vi darà menate burocratiche vi farà volare senza paturnie e via dicendo e nella speranza che qualche altro costruttore si lanci in un'impresa tipo questa quindi l'unica speranza adesso che potrà veramente farci entusiasmare è l'arrivo di un nuovo mini drone solo quello probabilmente ci entusiasmerà quando uscirà un mini drone con caratteristiche tipo quelle del mavic mini quindi ragazzi se questo video in cui vi ho detto le mie opinioni su questi droni low cost che pesano tanto e quindi avranno tanti problemi burocratici vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale 3gamo offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial ciao